un caro saluto un caro saluto a tutti da diego fusaro mi trovo questa volta in presenza insieme all'amico andrea cionci che subito saluto ciao andrea ciao diego finalmente sei mio ospite e questa questa conversazione davanti al caminetto credo che sarà gradita dai nostri ascoltatori anche per questo bel fuoco rilassante che scoppietta come le nostre conversazioni proprio così proprio così mi trovo ora con andrea cionci suo ospite sono felicissimo di poter condividere con lui un po di tempo non solo discutendo di questioni filosofico teologiche ma anche in amicizia parlando di tutto e desideriamo desideriamo condividere con voi in questo nostro dialogo alcune idee come sempre ci piace fare ragionando sui temi filosofico teologici in particolare oggi vorrei proporre ad andrea una discussione che mi pare su un tema importante cioè su una contraddizione se vogliamo chiamarla così intorno alla figura di bergoglio bergoglio viene presentato come il pontefice del misericordismo come il papa dei ponti e del dialogo con tutti quasi come se fosse l'emblema della openness della civiltà dei mercati aperto a tutti a tutti l'immagine del porto aperto è in qualche modo l'immagine che rappresento sembra rappresentare al meglio il pontificato tra virgolette naturalmente di bergoglio insomma un pontefice della apertura bisognerebbe ragionare e in parte ho provato a farlo nel mio libro la fine del cristianesimo sul fatto che questa apertura in realtà è come se neutralizzasse il cristianesimo perché aprendosi indistintamente a tutto e a tutti si svuota il cristianesimo e lo si riduce all'apertura stessa ma lasciando per ora da parte questo tema c'è un paradosso perché poi lo stesso bergoglio invece rivela una certa chiusura rispetto a quanti interni alla chiesa di roma provino a muovere delle obiezioni a chiedere delle delucidazioni a mostrare dei punti critici delle stesse teorie di bergoglio lì il ponte diventa un ponte elevatoio lì l'apertura si muta in muro lì sembra sconfessato ogni misericordismo e assistiamo addirittura alla sospensione a divinis assistiamo addirittura alle scomuniche insomma ben altro atteggiamento rispetto a quello tanto celebrato sei d'accordo con questa tesi certo diego ma del resto voglio dire un un pontificato basato su una menzogna cioè sul fatto che papa benedetto non ha mai abdicato come invece ci è stato ammannito per otto o nove anni prima che scoprissimo il suo autosilio in sede impedita diciamo chiaramente non può che presentare delle forme di contraddizione assoluta una di queste appunto quella qui tu facevi cenno cioè questa apparente misericordia che poi nei fatti si rivela completamente l'opposto di quanto viene proposto al pubblico mi ricordo non so se ve l'ho già detto io qualche anno fa in tempi non sospetti 2014 scrivevo per una rivista che si occupava di insomma di ambiente cose del genere e scrissi un articolo sul fatto che bergoglio aveva mandato i pompieri in soccorso delle popolazioni della dell'emilia romagna che era che erano state colpite dal terremoto allora cominciai candido come una colomba il mio articolo dicendo così come papa benedetto nel 2009 aveva aveva mandato i pompieri vaticani all'aquila per il terremoto così papa francesco ha fatto altrettanto beh l'ufficio stampa vaticano mi ha fatto togliere lo stralcio quello stralcio mi ha fatto stralciare quella parte dedicata a papa benedetto xvi allora lì già cominciai a capire che c'era qualcosa di non chiaro che c'era una dissonanza fra questa immagine di papa aperto misericordioso buono come il pane che ci veniva servita e poi una realtà invece che corrispondeva a quella di una ferrea autocrazia e appunto come tu giustamente accennavi poco fa ci sono dei sacerdoti che sono stati sanzionati in un modo pesantissimo domi nutella su tutti prima sospeso a divinis poi due scomuniche un nonsense assoluto perché la scomunica è come una condanna a morte non è che puoi combinare due condanni a morte una una sola può essere diciamo così e poi una presunta riduzione allo stato laicale tutto per cosa forse che domi nutella si è reso colpevole di qualche crimine malversazione crimini sessuali pedofilia zero assolutamente zero l'unica cosa che gli viene imputata è il fatto che domi nutella non riconosce valida l'abdicazione di papa benedetto allora ma se tutto è in ordine se le carte sono a posto invece di massacrare questo povero prete che magari poteva anche essere stato vittima di un equivoco no in buona fede ha pensato che ci fosse un problema canonico bastava convocarlo in vaticano gli si metteva presso l'ultimo dei canonisti e in un mezzo pomeriggio si risolveva la questione ci si metteva carta e penna guarda domi nutella la rinuncia al ministerium va benissimo funziona come abdicazione non c'è nessun problema torna nella tua parrocchia a pascere le tue pecorelli e invece no randellate una dietro l'altra allora domi nutella e anche gli altri sacerdoti del sodalizio mariano ricordiamo che don enrico bernasconi pure lui è stato scomunicato qualche tempo dopo proprio di questi ultimi di queste ultime settimane la scomunica fra celestino fra celestino che un altro dei sacerdoti che fanno parte del sodalizio mariano allora e qui veniamo a all'ultima novità l'ultima novità è questa interrompe un attimo prima di dell'ultima novità c'è un'immagine se possiamo evocarla che a mio giudizio ci restituisce con la potenza che è propria solo dell'immagine questa ambivalenza strutturale di un bergoglio publicus che è presentato come teorico e pratico del misericordismo del ponte dell'accoglienza della openness è un bergoglio privatus che invece di fatto condanna chiunque dissenta come il caso di don minutello come il caso di celestino addirittura non risponde ai dubbia che sono scritti dopo la moris letizia da personalità di spiccato valore teologico che esprimono dei dubbi e il pontefice in quanto tale avrebbe dovuto rispondere e far valere lì il ponte il dialogo forse era impegnato nella trasmissione che tempo che fa chi lo sa non aveva tempo da dedicare ai dubbi teologici ma c'è un'immagine che voglio evocare che forse condensa proprio questo atteggiamento la ricorderai bene è scolpita nella memoria di tutti credo l'immagine di bergoglio che colpisce stizzito la mano della cinese credo fosse il gennaio 2020 potrei sbagliare o dicembre 2019 o gennaio 2020 trovate facilmente l'immagine digitando su internet bergoglio mano cinese ecco immagino si possa usare questo questo trittico di espressioni bergoglio che la sua mano viene afferrata da una fedele cinese e lui stizzito la colpisce si vede proprio il volto livido ecco il volto livido e e uno sguardo quasi maligno direi no di chi perde all'improvviso la pazienza non entrerò ora nello specifico di quella che è un'ampia letteratura anticristica sul tema perché l'anticristo viene sempre presentato come placidus ricorderai caro andrea questo aggettivo che nella lettura letteratura anticristica accompagna sempre l'anticristo è placidus ben disposto placido bonario tollerante ecumenico e poi però all'improvviso diventa livoroso e come un temporale scarica la propria ira e ad esempio nel nel saggio sull'anticristo di soloviev l'anticristo diventa livoroso quando iniziano a parlargli di gesù della figura di cristo lì si si ad ombra ecco e forse quell'immagine può aiutarci a capire questo contesto che stiamo tratteggiando ti restituisco subito la parola sì addirittura io scendendo a un livello più basso diego attingo al vernacolo romanesco perché c'è un modo di dire a roma che è dagli e dagli e scerco sacco cioè come a dire nonostante uno cerchi di mascherare la propria natura dagli e dagli e questa questa ferocia questa natura cattiva non la si può tenere a lungo mascherata e quindi nel tempo queste cose vengono fuori e lo schiaffo alla cinese diciamo per quanto la reazione potesse essere comprensibile per un uomo di 85 anni quanti ne aveva che si si sente diciamo strattonato in questo modo però ha dato a tutti la percezione di quello che molti riferiscono in ambiente vaticano cioè che lui sia un iracondo che sia uno che tratta in modo estremamente pesante e brusco i suoi sottoposti tra l'altro in uno dei suoi deliziosi codici ratzinger il santo padre benedetto diceva di bergoglio è un uomo molto diretto con gli altri questo faceva parte uno di quegli elogi presunti tali che non erano elogi ma erano diciamo considerazioni assolutamente neutre che non avevano alcuna connotazione positiva come quando per esempio diceva è uno che dice questo si fa questo non si fa ma poi non spiegava se diciamo questo dirigismo fosse effettivamente orientato verso il bene o meno ma questa questa doppia natura che tra l'altro molti riferiscono appaia in modo plastico quando si spengono le telecamere cioè davanti alle telecamere lui assume un atteggiamento così da pecorella da agnello cioè appena si spengono le telecamere mi riferiscono alcune fonti che si trasforma completamente ecco questa sua natura diciamo autocratica emerge nei fatti nei fatti per come tratta i sacerdoti che osano mettere in dubbio la sua autorità infatti come notava giustamente don minutella in una catechesi dell'altro giorno si può parlare male di cristo della madonna si può mettere in discussione la divinità di gesù uno uno che lo faceva da 30 anni per esempio era enzo bianchi ed è stato premiato nel 2018 conferendogli diciamo il ruolo di relatore di presentatore al ritiro spirituale mondiale dei preti ad ars in francia uno che dice da 30 anni che gesù non era il figlio di dio ci rendiamo conto allora enzo bianchi si può permettere di dire che cristo non aveva una natura divina ma nessuno si può permettere di contraddire papa francesco o meglio lo si può fare ma c'è un limite da non superare e questo limite è andare a battere dove il dente duole cioè la sua legittimità infatti proprio per questo lui non so se avrai notato insiste continuamente con questa storia del chiacchiericcio la maldicenza il pettegolo è una sua fissazione sì è vero che il chiacchiericcio è un'attività peccaminosa per carità nessuno lo mette in dubbio ma questa insistenza ossessiva a me sembra un po sospetta non so tu che impressione ne abbia sembra la famosa excusatio non petita accusatio manifesta come la chiamavano i latini con il loro lessico molto diretto e come dire fulminio in molti casi ma in effetti questa immagine che ci hai restituito di un Bergoglio scisso tra la vita pubblica e la vita privata tra la vita mediatica e la vita reale mi pare molto pertinente da che con tutta evidenza Bergoglio è un uomo mediatico è un beniamino dello star system da subito il sistema mediatico lo ha celebrato e lui stesso si è da subito sentito a proprio agio e non ha fatto nulla per occultare questa propria in qualche modo figura di adattamento perfetto alla civiltà dello spettacolo e quindi non stupisce che una cosa sia a telecamere accese e cosa opposta sia a telecamere spente questo è un aspetto che mi pare del tutto coerente qui misuriamo ancora una volta direi un'antitesi fra Bergoglio e papa Ratzinger perché Ratzinger era un uomo introflesso era un uomo che non amava le telecamere era un uomo riflessivo era un filosofo dell'ottocento sembrava per certi versi ecco direi che l'immagine pittorica che meglio raffigura la grandezza meditativa dell'interiorità di Ratzinger è il famoso quadro di Friedrich il viandante sul banco di nebbia l'uomo che riflette che contempla la natura per riflettere sulla profondità dell'interiorità umana e su quanto anche nella natura vi possa essere di divino l'opera del creatore Bergoglio sembra invece diametralmente proiettato tutto nell'esteriorità totalmente estroflesso e svuotato di ogni interiorità sembra che la dimensione dell'interiorità in Bergoglio sia del tutto assente e non per caso egli dà spazio alle lui stesso dà spazio a quella civiltà dello spettacolo che si basa sulla chiacchiera andrebbero rilette con attenzione anche a Bergoglio le riflessioni di Martin Heidegger sul gerè della chiacchiera come cifra della società inautentica dello spettacolo nella quale non per caso Bergoglio si trova tanto a proprio agio la chiacchiera come parlare di tutto senza approfondire nulla e da questo punto di vista se realmente Bergoglio non amasse le chiacchiere dovrebbe entrare nel merito delle questioni teologiche profondissime che sono state sollevate come ricordavo da quei cardinali teologi e uomini di fede che con i dubbi hanno espresso hanno espresso i loro dubbi circa la validità in sede teologica della Moris Letizia mai pervenuta la risposta mai pervenuta la risposta ma come non era il pontefice del dialogo dell'apertura del confronto com'è che trova spazio e tempo per confrontarsi con Fabio Fazio a che tempo che fa con i cultori del paciamama con i luterani e non trova poi tempo per rispondere ai dubbi o alle critiche di Don Minutella o degli altri che hanno sollevato dei punti in effetti mi piace ricordare questo il falso si combatte non con la censura o con il silenzio ma con il vero quindi basterebbe smentire le tesi degli oppositori esibendo il vero verum index sui et falsi il fatto che invece il verum non venga mai esibito e si cerchi di censurare di silenziare di sospendere divinis dovrebbe essere oggetto di una riflessione critica certo anche perché da un punto di vista canonico se un fedele o un ecclesiastico di rango inferiore non ha capito qualcosa dal dal suo superiore e chiede un chiarimento il superiore ha il dovere di chiarire perché questa è una cosa che forse diciamo sfuggi un po' ad alcuni ad alcuni ascoltatori cioè la fede cattolica che si sia cattolici o meno è un sistema che dà tutte le risposte al proprio interno giusto e sbagliate che siano questo non ci interessa ma è un meccanismo dove tutto ha una spiegazione allora se Bergoglio non risponde ai dubbi dei cardinali non è che lo fa per perché non sa che cosa rispondere lo fa perché quei dubbi allo incastravano in una risposta si barra no se lui avesse risposto si barra no sarebbe stato messo in impeachment come eretico e lui è stato molto abile fino ad oggi a non avere mai diciamo dei pronunciamenti dottrinali tali da poter essere accusato pubblicamente di eresia in un modo canonicamente consistente ecco un punto dolente era l'enciclica amoris letizia la pseudo enciclica appunto il cattolicesimo è organizzato al proprio interno come un sistema logico profondamente logico poi si può essere cattolici o meno accettare o meno dei dogmi che fondano la base di questo sistema come i pilastri di un tempio no e quello naturalmente dipende da una scelta individuale ma al suo interno i conti devono tornare quindi se se un vescovo o addirittura il papa non è in grado di fornire delle risposte sulla dottrina c'è un grossissimo problema un enorme problema quindi io trovo assolutamente incredibile che le persone non capiscano o abbiano dimenticato questo aspetto profondamente razionale del cattolicesimo ma che cosa è cambiato diego rispetto alla fede dei nostri nonni che cosa è cambiato ma io ho il sospetto che la dittatura del relativismo si sia insediata non solo in maniera onnipervasiva nella società di massa ma abbia per così dire colonizzato anche il vaticano e quindi la chiesa stessa come scrivevo nel mio libro la fine del cristianesimo è stata saturata dall'ateismo liquido dell'indifferenza che è la forma teologica in cui la dittatura del relativismo si dispone e quindi il risultato ultimo di questa situazione è quella per cui anche sulle questioni relative alle cose ultime prospera il relativismo insieme all'indifferenza e quindi Bergoglio preferisce discutere a che tempo che fa di questioni del tutto secondarie rispetto alle questioni legate alle cose ultime ad esempio preferisce non rispondere ai dubbia dei cardinali o alle miratissime obiezioni ragionevoli peraltro di don alessandro minutella preferisce far valere l'idea di un'accoglienza verso chi è esterno rispetto al mondo cattolico anziché dialogare serratamente con chi è interno a quel mondo nel tentativo di appianare le divergenze trovando insieme la via della verità sotto questo riguardo possiamo dire che la dittatura del relativismo contro cui combatteva Ratzinger si è di fatto si è di fatto concretizzata anche all'interno della della neo chiesa liberal progressista di Bergoglio che è sostanzialmente un locus revelazioni del dell'ateismo dell'indifferenza e della dittatura del relativismo non ce ne stupiamo in fondo nei testi sacri troviamo scritto il vostro parlare sia sì sì no no Bergoglio preferisce invece strutturalmente l'ambivalenza l'ambiguità il doppio senso e quindi nell'amoris letizia come sappiamo c'è una fortissima ambivalenza ad esempio sul tema dei divorziati e di coloro i quali per le ragioni più diverse e disparate scelgono di separarsi di divorziare Bergoglio lascia un piano di confusione di indecisione generale che porta poi come sappiamo al caos per cui in Polonia non danno non danno la comunione ai divorziati mentre in alcune aree della Germania sì e questo fa parte di questa dittatura del relativismo per cui tutto va bene fino a un certo limite come dicevi te perché poi quando si tocca invece il problema della verità e si prova a uscire dai perimetri della dittatura del relativismo proprio perché una dittatura non ammette la possibilità di qualcosa di altro rispetto al relativismo quindi se si accettano i perimetri del relativismo si può dire tutto quel che si vuole si può dire che Gesù non è il figlio di Dio o si può dire che tutte le regioni sono ugualmente indifferenti perché sono ugualmente poste sullo stesso piano ma se poi si entra sui temi delle cose ultime lì non è ammesso il dialogo e prevale la forma consona con la dittatura del relativismo che è la forma della sospensione a divinis o della doppia come ricordavi nel caso di Don Minutella della doppia figura della scomunica in un dialogo che ebbi con Don Minutella mi disse sostanzialmente sono parole sue che la doppia scomunica equivale idealmente al fatto che lo hanno prima bruciato vivo e poi gli hanno anche tagliato la testa post mortem questo è il significato della doppia scomunica ovviamente di cui stiamo discutendo e quindi la neo chiesa liberale progressista di Bergoglio mi pare che si muova saldamente su questo terreno della dittatura del relativismo sì infatti è una dittatura e come tutte le dittature se ci pensi utilizza una strategia del consenso veramente d'accatto come quei dittatori sudamericani che ogni tanto si facevano vedere in mezzo al popolo a fare la spesa come i comuni cittadini anche il nostro non non di rado è solito fare delle uscite tra le strade di roma per andare a servizi in negozi della città ecco proprio oggi mi è arrivata una email all'email dell'inchiesta codice ratzinger chioccio a libero punto it di un signore che conosce abbastanza queste questioni che ricordava quando alcuni anni fa Bergoglio per dimostrare di essere umile e caritatevole è andato a comprare un paio di occhiali nuovi presso un ottico di roma in via del babuino e ha regolarmente pagato il servizio ricevuto e quindi lì grande entusiasmo mediatico vedi papa francesco come uno di noi eccetera paga perfino quando paga per seri mi ricorda quando dissero mario draghi al bar saluta perfino e perso accidenti ma questo e questo signore che che era che abbastanza dentro alla questione ci fa riflettere sul fatto che aggiungendo gli straordinari per la scorta che l'aveva seguito in abiti civili fingendosi fans e diciamo predisponendo un apparato di sicurezza per questa uscita si sono spesi circa 13 mila euro cioè Bergoglio avrà speso che ne so 150 euro di occhiali vogliamo essere vogliamo largheggiare però ne ha spesi 13 mila che sarebbero potuti andare nelle tasche dei poverelli e allora qui mi rivolgo a tutti quei soliti contestatori che obietano a vedete la chiesa con tutti quegli ori ratzinger aveva il crocifisso d'oro al collo poteva venderlo e darle povere ecco appunto anche Bergoglio poteva evitare di fare questa sceneggiata impiegare i 13 mila euro che si sono spesi per per questa uscita per degli scopi più caritatevoli ma volevo riallacciarmi a una cosa che avevi detto prima sul sì sì no no come giustamente hai notato Bergoglio mantiene sempre questa ambiguità no potrebbero obiettare dei nemici che anche ratzinger mantiene un'ambiguità anfibologica manteneva un'ambiguità anfibologica diceva il papa è uno solo non spiegava quale ho validamente rinunciato al mio ministero ma il ministero muro sul ministero ministerium ecco ma c'è una differenza sostanziale e qui dobbiamo spiegare molto bene il senso delle parole di gesù il vostro parlare sia sì sì no no questo si riferisce alla verità nel senso che la verità deve essere offerta in modo come posso dire completo perfetto ma il modo con cui questa verità viene offerta allo stesso cristo la serviva in un modo tale che le persone ci dovessero mettere il cuore e la testa parlava a chi aveva orecchie per intendere ah ma allora dice allora non non ottemperava il suo comandamento di parlare col sì sì no no certo lui diceva la verità ma lo diceva in un modo che solamente chi aveva le orecchie per intendere potesse arrivarci per via logica quindi abbiamo due forme di ambiguità quella di ratzinger è un'ambiguità logica che consente di scoprire la verità della sua situazione canonica di impedimento e che il papa era sempre rimasto lui e poi c'è l'ambiguità di Bergoglio che invece è fatta per nascondere per celare per confondere le carte per far filtrare dei messaggi antidottrinali e poi lasciarli sedimentare così nell'immaginario e nella coscienza collettiva senza che ci sia una parola chiara come quando per esempio lui rilasciò quelle due interviste a scalfari nelle quali scalfari gli attribui delle eresie madornali tipo che l'inferno non esiste che le anime dannate si auto annullano e la sala stampa vaticana si limitò a dire beh il direttore scalfari non ha trasferito esattamente le parole del santo padre ma loro dovevano fare una smentita punto per punto ribadendo i capisaldi della dottrina cattolica non so che cosa ne pensi di queste doppie ambiguità di più Bergoglio stesso dato che scalfari comunque era a suo modo un papa laico aveva su repubblica una sorta di platea allargata avrebbe dovuto Bergoglio intervenire nel rispetto per il suo interlocutore scalfari con il quale intrattenne sempre un dialogo molto molto attento e fecondo dal loro punto di vista anche in questo caso preferiva dialogare con scalfari che non con i vescovi della cristianità avrebbe dovuto garbatamente far notare che forse scalfari aveva esagerato o aveva frainteso alcuni passaggi invece nulla di tutto questo giunse da Bergoglio che anche in questo caso preferì tacere ed è interessante questo aspetto il silenzio di Bergoglio è un silenzio a senso probabilmente rispetto ai temi espressi da scalfari nei suoi interventi scalfari attribui a Bergoglio tutta una serie di tesi eretiche come giustamente ricordavi te ad esempio l'inesistenza dell'inferno le anime dei peccatori si autodistruggono la sola umanità di Gesù Cristo ridotta una sorta di uomo morale perfetto di imperativo categorico vivente diremmo tesi che sono di fatto non solo non compatibili con la dottrina cattolica ma direttamente eretiche la seconda si chiama arianesimo cioè di fatto negare la identica sostanza di padre e figlio qualcosa di già conosciuto nella storia della chiesa e la l'eresia di ario la prima è l'eresia di chi nega l'esistenza dell'inferno e allora abbiamo la vecchia teoria di origene secondo cui alla fine anche il diavolo si sarebbe salvato dottrine che sono state ampiamente confutate smentite e messe da parte ora che riaffiorino per bocca di quello che idealiter dovrebbe essere il sommo pontefice fa letteralmente specie ed è curioso il fatto che su questi temi anziché crearsi una disputa un dialogo ci sia il silenzio l'indifferenza si parli d'altro mi permettimi di dire caro andrea che anche al cospetto del tuo libro l'indifferenza che si è prodotta nelle sfere alte del vaticano mi pare un silenzio assordante in verità perché sarebbe stato interessante un dialogo serrato su questi temi in cui ti convocassero ad argomentare a discutere eventualmente smontassero punto per punto in maniera razionale argomentata le tue tesi invece il silenzio o le uscite liquidatorie del tipo non ha senso è tutto falso voi capite che sono le due facce della medesima medaglia in un caso non se ne parla e quindi si lascia la tesi lì dov'è nell'altro caso si dice della tesi quello che si potrebbe dire di tutto perché è tutto falso non ha alcun senso lo potete dire dei dialoghi di platone come della fenomenologia dello spirito è una critica general generica che si attaglia a tutto e a niente in verità ma è una strategia diciamo che l'autorità a volte adotta per esempio la famiglia reale inglese no quando è stato messo in dubbio la paternità di carlo sul principe henry hanno lasciato cadere la questione perché perché non c'erano prove non c'erano documenti non c'era un test del dna che ponesse la questione in modo stringente quindi se ne sono disinteressati e la cosa è finita lì lecito ma ricorderai quando invece il principe andrea è stato pizzicato nelle sue frequentazioni con il pedofilo epstein e lì non potevano far finta di niente infatti il principe andrea è andato in prima serata sulla televisione di stato inglese a fare mea culpa non so che cosa ha detto come si è giustificato cioè ci sono cose che si possono lasciar decadere perché sono delle butade assolute non hanno nessun senso e altre invece su cui è doveroso rispondere ma prima del mio volume io ricordo che una pietra miliare diciamo di questa inchiesta il volume dell'avvocatessa stefania costa che ha scritto un volume giuridico che dimostrava che la declarazione di papa benedetto era nulla se intesa come abdicazione io poi più avanti avrei scoperto che era un annuncio di auto esilio in sede impedita ma quello era un volume giuridico è il volume giuridico la chiesa il sacrosanto dovere di smentirla anche perché mi diceva fra bugnolo che in vaticano dovrebbe esserci una norma per cui se la chiesa entro 90 giorni non risponde considera accettata quell'obiezione il quello che tu dici è sacrosanto dice avrebbero dovuto contestare avrebbero dovuto aprire un dibattito ma se fossimo in una in un contesto di legalità ma qui non siamo in un contesto di legalità è proprio quello che vi sto dicendo perché se fosse stato un contesto di legalità vi direi di più il primo a preoccuparsi di non avere il munus petrino avrebbe dovuto essere papa francesco ma voi ve lo immaginate giovanni paolo secondo che se ne frega di avere l'assistenza dello spirito santo e va avanti così a esercitare abusiveamente la professione per così dire cioè il munus petrino non è che posso dire il bollo della segreteria dell'università che manca sul certificato non è una questione accessoria al munus in termini di fede è collegata all'assistenza di dio nella terza persona trinitaria allora io credo che un ecclesiastico che viene eletto papa dovrebbe essere atterrito dalla responsabilità di avere sul gobbo un miliardo 285 milioni di anime no infatti ratzinger che non voleva essere papa alla fine ha accettato perché perché sapeva che dio l'avrebbe aiutato questo concetto è ribadito per esempio nella universi dominici gregis dove il papa raccomanda che era giovanni paolo secondo il papa raccomandava il cardinale neo eletto pontefice di non rifiutare la carica perché anche se lui si fosse sentito inadeguato l'assistenza di dio lo avrebbe aiutato e così ratzinger umilmente come umile servo nella vigna del signore ha accettato questo compito in mane già in età avanzata consapevole di avere questo aiuto dal signore bergoglio che ci sia o non ci sia lo spirito santo per lui non fa differenza non so come la vedi questa siamo sempre lì nella dittatura del relativismo nel relativismo liquido e dell'indifferenza come l'ho definito per cui in fondo si comporta al cospetto di queste questioni come un qualsiasi consumatore laico per cui è del tutto il rilevante che ci sia o che non ci sia che esista o che non esista dio lo spirito santo e questo è un po il contesto nel quale ci troviamo ecco caro andrea ti ringrazio di questa nostra conversazione su questi temi spero ne faremo presto molte altre magari anche in questo contesto così piacevole col cammino scoppiettante abbiamo ancora parecchia legna da mettere al benissimo in tutti i tutti sei anfibologicamente parlare in modo razzingeriano c'è parecchia legna da bruciare grazie grazie a tutti i nostri ascoltatori ci riaggiorniamo presto un caro saluto da diego fusaro e da andrea cionci ricordo a tutti la lettura consigliata del libro di andrea cionci codice razzinger e se volete anche il mio la fine del cristianesimo un caro saluto a tutti da diego fusaro ed andrea cionci